Con un lungo applauso la cittadella del Carnevale ha dato l'ultimo saluto a Franco Malfatti, ancora sotto shock il mondo della cartapesta, che ha perso uno dei suoi maestri più sensibili, stroncato all'improvviso martedì mattina, mentre si trovava a casa, a soli 56 anni. È stato Langarotto ad accoglierlo nella camera ardente, sovrastato dalla burlamacca e circondato dai modellini e dai bozzetti dei suoi carri più famosi, non solo i due che li valsero il primo posto in prima categoria, nel 2001 le rovine d'Italia e nel 2008 sortilegio, ma anche tante altre costruzioni, cariche di emozioni e di significato, che pure non venivano quasi mai premiate dalle giurie. I collaboratori di sempre, i carristi, dei nuovi arrivati a quelli della sua generazione, si sono stretti intorno alla famiglia, alla moglie che lascia insieme ai due figli, presente per il saluto, la fondazione Carnevale e l'amministrazione comunale, fino al lungo corteo che nel silenzio quasi irreale della cittadella lo ha condotto fino a suo hangar, dove stava lavorando al carro di seconda categoria in gara per il prossimo Carnevale e dove rimarrà per sempre nella mente di tutti, frecoriandoli e la cartapesta.